buongiorno signori cari belli hola bagai come la va eccoci qua arrivati al solito appuntamento di fine mese inizio mese con clash of clans perché arriva il nuovo pass e io come creator ufficiale di clash of clans con il mio code creator haplo devo presentarvi la nuova skin e così la vedete in anteprima e capite bene se vi piace se non vi piace se vorrete acquistare il pass o meno e mi raccomando se lo acquistate utilizzate il nostro code creator haplo e signori prima di vedere la skin un bel like iscrizione al canale guardare in descrizione che ci sono tutti i nostri social che così non vi perdete video non vi perdete live sul sito viola su twitch e non vi perdete eventi importanti di clash of clans e di supercell in generale ok andiamo un po il video dai andiamo un po sul nostro account da sviluppatore che supercell ci dà in queste occasioni solamente in queste occasioni e per un tempo limitato chiaramente e dobbiamo andare a vedere un po queste novità eccola qua abbiamo spostato già l'eroe disegnato perché la skin di questo prossimo mese che arriverà a novembre è la champ royal andiamo un po a vedere la skin eccola qua la pirata la piratessa col suo timone con la sua lancia con l'abbigliamento da pirata da capo pirata con tutto quello che volete carina carina direi no ci può stare ci può stare semplice nulla di particolare ma ci sta andiamo un po a vederla anche nel villaggio ok fai pirattare la lancia lancia il timone carino carino anche questo direi andiamo a vederla anche in battaglia assolutamente sì proviamo questo villo qua ma sì dai proviamolo ok champ all'attacco si becca subito un bel bombolone noi attiviamo anche la sua abilità che così vediamo quando lancia il timone eccolo lì carino l'effetto semplice ovviamente è una skin del pass con cui nulla di particolare tra poco ci lascia le penne speriamo di riuscire ad osservarla benino che si metta in una posizione che riusciamo ad osservarla bene mi sembra di sì sa sì 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 ok c'ha un bel gran mal di testa si sorregge con la lancia e lì tranquilla nel villaggio che aspetta che termini l'attacco beh 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 ci può stare ci può stare andiamo a vedere anche come recupera le energie nel villo abbiamo fatto addirittura il 50% eccola qua che sta recuperando le energie e beh rannicchiata tira il fiato timone sulle ginocchia semplice nulla di particolare ma carina vi piacerà questa skin così completeremo il set dei pirati questa è la prossima skin in arrivo col mese di novembre per quanto riguarda clash of clans e ci sono anche alcune novità per quanto riguarda il prossimo pass ovvero che dal prossimo mese le spide per guadagnare i punti saranno fatte in base al nostro th non capiterà più per esempio che c'è la spida da abbattere l'artiglieria aquila se noi non l'abbiamo ancora sbloccata metti caso che siamo th9 come facciamo ad abbattere l'artiglieria aquila se siamo ancora th9 e guadagnare punticini del pass bene hanno pensato bene di cambiare questa cosa e fare in modo che le spide per guadagnare i punti siano relative al nostro th ulteriore incentivo ulteriore aiuto col prossimo pass se noi di mese in mese andremo a comprare il pass avremo 200 punti bonus all'inizio di ogni stagione appena compriamo il pass ok? quindi andremo subito a sbloccare per esempio la donazione con una gemma che sono i primi premi che si sbloccano con le varie soglie no? quindi se noi di mese in mese andiamo a comprare il pass abbiamo sempre 200 punti di bonus che ci aiutano a essere più veloci nel fare le nostre spide ed è arrivare belli veloci veloci alla conclusione mi raccomando vedete un po' voi se è il caso di comprare il pass io lo trovo ormai estremamente utile non è necessario si può giocare benissimo senza e mi raccomando se lo comprate utilizzate il nostro code creator Aplo per oggi le novità sono tutte qua di Clash of Clans ma domani ci sarà un nuovo video perché ci sono in arrivo ancora qualcosina da raccontarvi per cui non perdetevi i nuovi appuntamenti lasciate il like iscrivetevi al canale guardate in descrizione che ci sono tutti i nostri social mi raccomando non perdetevi le live sul sito Viola su Twitch non perdetevi i video su YouTube e seguiteci sempre ok? Code creator Aplo sempre Ciao! Bye Bye!